Questo non è il tuo telefono che squilla? Sì. E non rispondi? No. Ma tutto bene? Certo, mamma. Edoardo, incanti, tu non mi piaci. Ok. No, no, nessuna intenzione. Di farmi fare la ramanzina da te, se non provi un minuto, per un istante, a vederla dal mio punto di vista. Dal tuo punto di vista? Sì, dal mio punto di vista. Voglio rispondere io. No, non mi raccomando. Mai. Is questa cosa? È la mia persona. Qua è la mia persona? Mi raccomando. Grazie a tutti. Grazie a tutti.